Gossipita VIP, se lo sussurra, lo svegliamo. La vita di Alberto Matano non è stata un percorso senza ostacoli, bensì caratterizzata da sfide significative nel corso degli anni. In una recente intervista al noto settimanale Oggi, il rinomato giornalista ha condiviso episodi inediti del suo passato, aprendo il suo cuore e commuovendo molti dei suoi fan e stimatori. Matano, di solito riservato, ha deciso di esporre aspetti personali delicati, spinto dalle sue esperienze personali, come il bullismo subito durante l'adolescenza e il suo coinvolgimento nel dibattito sulla legge e sull'omofobia al Senato. Queste esperienze lo hanno spinto a sacrificare parte della sua privacy per diventare un esempio per gli altri. Ha dichiarato, ho avvertito il bisogno di dire la mia sottolineando il momento cruciale in cui ha deciso di esporsi. In seguito, Matano ha sposato il suo compagno di vita, Riccardo Mannino, in un union civile, rendendo pubblica la loro storia d'amore. Nonostante le speculazioni e le critiche occasionali, Matano ha imparato a non curarsi del giudizio degli altri e degli haters, mantenendo la sua autenticità.